Ciao ragazzi, allora oggi vorrei fare un video riflessione. Spesso quando arrivano da me nuovi studenti faccio una domanda che apparentemente può sembrare semplice a cui dare una risposta, ma in realtà nasconde qualcosina in più. Io chiedo, perché vuoi fare musica? Perché vuoi fare il cantante? Qual è il fine, lo scopo? La risposta a questa domanda a me dice tantissimo della persona che ho davanti e di quale sarà ovviamente l'approccio e il lavoro che andremo a svolgere insieme. Tu, ti sei mai posto questa domanda? Perché la risposta, la domanda magari è banale, no? La risposta può sembrare banale, ma analizziamo bene quali possono essere le possibili risposte e vediamo in quale ti riconosci. O magari nessuna di queste risposte e commenta dicendomi qual è la motivazione. Risposta 1. Sono una persona timida, ho bisogno di trovare il modo di comunicare il mio bisogno con le persone perché nella vita normale di tutti i giorni non riesco a farlo. E con la musica è come se riuscissi in qualche modo a trovare la mia voce e a far arrivare il messaggio che sia emotivo, che sia di comunicazione, ma con la musica riesco a comunicare. Risposta numero 2. Beh, mia mamma ha sempre cantato, mio papà ha sempre cantato, comunque c'è sempre stato un elemento in famiglia che cantava e quindi diciamo quasi di riflesso si è spinti verso la musica, verso il canto, quasi come fosse un dovere perché in famiglia la musica c'è sempre stata. Motivo numero 3. Voglio farne una carriera. Voglio fare il musicista, non importa quale sarà il mio livello di successo, ma voglio che questo sia il mio lavoro. Questa risposta per me prevede sempre un approfondimento perché vorrei capire qual è il tipo di lavoro che la persona sta immaginando, no? Che siano magari eventi, che voglia fare magari piazze, che voglia fare cover. Qual è il tipo di lavoro, ecco, nel mondo della musica perché ci sono tantissimi mestieri che il musicista può fare o specializzazioni, come in qualunque mondo del lavoro. E poi la mia preferita, la risposta finale, quella voglio diventare famoso. Non vi dirò qual è stata la motivazione che ha spinto me perché in realtà sono più di una e nel tempo ho elaborato anche queste motivazioni fino ad arrivare a quella che è la più corretta e che rappresenta quello che mi spinge in questo mondo, nel mondo della musica e nel mondo del canto. Ma sono curiosa di sapere se ti distingui in una di queste motivazioni o se magari ce n'è una nuova che ancora non mi è capitato e che non ho messo tra quelle elencate. Commenta!